Buonasera, sono Riccardo Letto, sono un attore e sono qui al Vincenzo Crocitti per ritirare questo premio prestigioso. Sono veramente contento perché io non ho mai avuto la fortuna di conoscere Vincenzo Crocitti umanamente, insomma di persona, ma l'ho conosciuto a livello artistico. Ho visto i suoi film, ho visto le sue performance televisive, perché l'ho visto poi praticamente nella seconda parte della sua vita, in televisione, in fiction, e sono sempre stato attirato dalla sua attività artistica. E quindi per me oggi essere qui è premiato con questa tipologia, quindi la meritocrazia per me è un grandissimo onore, ne sono veramente felice. E quindi vi ringrazio e di essere qui questa sera mi fa molto onore. Grazie. Grazie.